Aldo, Aldo, in questo momento sono in gravi difficoltà, cos'ho davanti, non me l'aspettavo proprio, c'era tutto il sentiero ottimo da camminare, in questo momento mi trovo davanti a tre lastre di ghiaccio, sono io, si vede dai piedi, speriamo di non scivolare. Vediamo appoggiare i piedi pian pianino con lo smartphone in mano e non cadere, ma non si sa bene dove andare qui, non si sa bene, l'importante è che se cade lo smartphone fa niente, ma l'importante è che io non cada perché passate adesso due o tre persone mi hanno detto di stare molto attento a camminare perché scivoloni all'improvviso, ecco qua, ecco, 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 sto andando, sto scivolando, sto scivolando, oh e là, sono caduto, sono caduto.